Pensate quanto sarebbe figo avere un computer che vi permette di fare tutto e che sia grande quanto questo controller. Oddio ma è proprio questo quello che intendevo? Oddio che figata! Ciao ragazzi ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Ropazzo. Oggi siamo qui con questo mini computer appena uscito, questo è il Latte Panda Sigma e devo ringraziare il mio amico Lorenzo che avrete intravisto nella intro che l'ha comprato, ordinato tra l'altro importato dalla Cina e anche qui ci arriveremo dopo. E oggi insomma me l'ha prestato per fare questo video, secondo me davvero su questo che è molto interessante perché come avrete visto dalla intro parliamo di un computer che veramente vi sta in tasca sostanzialmente. Non è un Raspberry come molti potrebbero pensare a prima vista, bensì è un computer fatto e finito perché al suo interno ha un i5 di tredicesima generazione, 16 giga di RAM DDR5 quindi davvero è messo molto bene. Ma prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche così da non perdervi nessun video che uscirà sempre qui sul canale. Detto questo vi invito anche a iscrivervi al mio canale Telegram di offerte dove trovate le migliori offerte su Amazon per quanto riguarda i videogiochi e ovviamente l'hardware. Detto questo vi invito anche a seguirmi su Instagram e ora riprendiamo con questo mini PC Latte Panda. Ma parlando di meglio delle specifiche di questo mini computer vi ho già detto che al suo interno monta un i5 di tredicesima generazione, in particolare l'i5 1340p. Sostanzialmente è un 12 core 16 thread però ovviamente 4 a 4p core con relativi thread e 8 e core quindi ovviamente come abbiamo imparato a conoscere l'architettura ibilità degli Intel di 12esima e 13esima generazione. Questo ovviamente fa sì che le prestazioni in multi core ovviamente siano belle pompate soprattutto su un sistema che ha un TDP di 28 watt a pieno carico arriva a consumarne sulla CPU circa 38 ma comunque veramente consumi super contenuti ne fanno davvero un campione in multi thread. Passando ora alla RAM al suo interno monta 16 giga di RAM LP DDR5 da 6400 MHz. Anche qui l'unica cosa sono saldati quindi effettivamente non possiamo andare ad aggiungercene altri però davvero comunque RAM ha frequenza anche molto elevata quindi devo dire che non è per nulla male soprattutto se consideriamo la grafica integrata che monta al suo interno. Perché ovviamente sì essendo di queste dimensioni non sono riusciti a inserirci anche una grafica dedicata ma ricollegandomi proprio al fatto della RAM è bene che abbia una RAM anche così veloce per il fatto che ovviamente la VRAM della scheda grafica integrata che è un Iris XE da 80 execution units ovviamente quindi che va poi a condividere la RAM di sistema. Cioè la VRAM è sostanzialmente la RAM di sistema quindi è molto bene che sia così veloce. Parlando poi per quanto riguarda la memoria come SSD in questo caso in realtà il mio amico Lorenz è andato a prendere la versione Barebone cioè quella senza effettivamente dischi perché conveniva più comprarsi da soli su Amazon o insomma ad altri siti. E ci è andato ad aggiungere un SSD NVMe 4.0 da 1TB della Kingston mi pare un KC3000 quindi è davvero un'ottima scelta e effettivamente con un NVMe questo coso rimane ecco di dimensioni compatte. ma volendo e qui passiamo alla dotazione di porte qui davvero ci potete collegare qualsiasi cosa a questo minicomputer perché davvero vi ho già detto gli NVMe ha ben due slot 1.4.0 e 1.3.0 uno slot che è per gli M2 però in formato SATA e uno slot anche per quanto riguarda il modulo wifi o anche bluetooth anche qui il mio amico è andato a prenderlo senza perché costava molto meno e quindi magari poi ce lo andrà ad aggiungere ma volendo ecco ha anche un collegamento SATA classico ecco e tutta una serie di porte che adesso andremo a vedere meglio. Andandovi a parlare subito della dotazione di porte su questo lato della scheda abbiamo le prime due che sono di alimentazione standard la prima in realtà non ho capito bene che connettore sia però è segnato come power input quindi ok mentre la seconda è quella dell'alimentatore standard che troviamo anche sui computer portatili e che vi viene fornito insieme nella scatola poi abbiamo una Thunderbolt 4, una HDMI 2.1, due porte Ethernet da 2.5 gigabit e due porte USB 3.2 da 10 gigabit al secondo e infine anche un jack audio per le cuffie. Nel lato corto della scheda invece troviamo due porte per l'USB 2.0 se abbiamo degli header diciamo di un case classico e se vogliamo infilare questo latte pandala in un case piccolino magari farci qualcosa, qualche esperimento. Abbiamo una porta SATA, un'alimentazione per la porta SATA, un'interfaccia seriale RS232 anche dei pin per dei pulsanti frontali come quelli dei case e anche un'interfaccia per Arduino quindi anche qui davvero un computer super versatile secondo me. E passando all'ultimo lato della scheda abbiamo ovviamente il pulsante di accensione bellino che si illumina di blu, due porte USB 2.0 che presumibilmente le userete per mouse e tastiera, un connettore per connettere un monitor esterno per esempio quelli che troviamo nei computer portatili e anche una seconda Thunderbolt 4 adesso una delle due dovrebbe anche supportare l'uscita video sotto forma di DisplayPort 1.4 quindi davvero abbiamo di fronte un computer che bene o male è completo e effettivamente anche molto espandibile nel senso possiamo veramente farci quello che vogliamo e in effetti in realtà in questo video non andremo a vedere chissà che utilizzi particolari e strani però ovviamente andremo a vedere i test sia in applicazioni professionali sia anche effettivamente nei giochi ma parlando ecco un po' meglio di quello che potrebbe esserne l'utilizzo ovviamente questa non è una macchina pensata più di tanto per il gaming perché abbiamo come vi ho già detto insomma c'è una grafica integrata però effettivamente vi ripeto andremo a vedere dopo anche le prestazioni in gaming non fanno poi così schifo però ecco per tutti gli altri utilizzi magari più professionali perché che ne so magari ci dovete collegare a un Arduino dovete pilotare fare qualcosa di particolare forse anche l'utilizzo nei droni potrebbe essere utile davvero avete una potenza computazionale offerta dall'i5 e 1340p che è davvero niente male beh dopo tutta questa introduzione e aver visto le specifiche direi ora di passare ai benchmark e poi ovviamente alle conclusioni di questo video allora come primo benchmark abbiamo ovviamente C più Z con il punteggio in multitread e in singletread in multitread otteniamo un punteggio di 5150 punti e in singletread di 7045 punti virgola 5 e appunto si sente che il singletread è veramente forte e anche il multitread effettivamente non è per niente male passando a Cinebench R23 per la fase multicore diciamo otteniamo un punteggio di 11341 punti anche qui davvero niente male soprattutto se consideriamo il fatto che il consumo si aggira intorno ai 40 watt quindi davvero tanta roba passando al sempre Cinebench R23 ma col punteggio in single core single thread insomma otteniamo un punteggio di 1772 punti anche qui si sente che la CPU è di ultimissima generazione perché davvero è impensabile per altre CPU raggiungere questo livello in single thread passando ora a Blender Open Data 3.4.0 otteniamo un punteggio combinato delle tre scene di 153,2 punti davvero niente male comunque sempre considerando che si tratta di una CPU mobile che consuma neanche 40 watt e adesso vedete insomma il grafico anche confrontato con altre CPU quindi davvero niente male passando ora a Corona Benchmark e qui diciamo c'è un po' un asterisco dietro nel senso che noi stiamo utilizzando Windows 10 ma sapete che Windows 10 non gestisce bene gli E-Core e i P-Core e questo è un chiaro esempio perché se vedete stiamo utilizzando praticamente soltanto gli E-Core mentre i P-Core stanno dormendo quindi questo risultato che vedete in realtà non è tanto valido e appunto i test sarebbero da fare con Windows 11 ma questo insomma ci è capitato insomma un mio amico ha installato Windows 10 e abbiamo fatto i test così comunque ecco tutti gli altri che avete visto non sono stati sfalsati perché effettivamente venivano utilizzati i P-Core comunque passando ora a 7-Zip in compressione otteniamo un punteggio di 65.773 punti e in decompressione di 70.196 punti anche qui un punteggio devo dire per nulla male e ora direi di passare ai giochi come primo gioco abbiamo Fortnite testato in Performance Mode in 1080p con settaggi per ente della Performance Mode competitivi cioè distanza visuale al massimo e il resto al minimo comunque otteniamo un punteggio di 97.6 fps con un percento abbastanza bassino di 18.4 alla fine è abbastanza giocabile non è chissà quanto competitivo però devo dire che insomma mi aspettavo di peggio dalla grafica integrata di questa CPU e passando a un gioco decisamente più pesante cioè Hogwarts Legacy sarebbe anche giocabile se non fosse per un bug che al primo avvio che non avevo ancora iniziato la registrazione non c'era ma che poi si è presentato che se vedete le facce dei personaggi sono rovinate nel senso hanno delle linee sopra che non capisco, cioè credo sia un glitch grafico ma non capisco come farlo andare via ho provato diverse cose ma niente quindi non vedete i test ma comunque l'avevo testato con l'FSR e qualità bassa e comunque era alla fine anche giocabile comunque passando a The Witcher 3 da RTX 11 1080p dettagli medi medio-bassi in realtà otteniamo un average di 34,6 fps comunque anche passando in aree abbastanza pesanti come Novigrad e un 1% low di 21,1 fps quindi anche qui alla fine se ci limitiamo ai 30 fps bene o male questo comunque anche dopo l'aggiornamento che c'è stato che credo abbia pesantito un pochino il gioco insomma lo possiamo giocare anche abbastanza bene questo The Witcher 3 passando ora a Borderlands Borderlands 3 qui testato in 1080p dettagli medio-medio-bassi col benchmark integrato quindi senza i risultati di Afterburner abbiamo soltanto l'average quindi senza un percento low comunque l'average di 30 fps spaccati quindi devo dire anche questo volendo è giocabile e alla fine questa grafica integrata Iris Xe non è così male effettivamente ci lascia giocare anche in full HD e alla fine titoli anche relativamente pesanti e ora direi di passare all'ultimo gioco che non è un gioco che testo ma ovviamente questo è il computer del mio amico Lorenzo quindi c'erano i giochi che ho installato lui e sto parlando di Deep Rock Galactic testato in 1080p a dettagli medi ovviamente non è un gioco chissà quanto pesante però comunque riusciamo a ottenere qui un framerate più che giocabile di 64 fps con un 1% low di 35,5 fps quindi devo dire che alla fine appunto si comporta anche abbastanza bene questa grafica integrata detto questo direi di passare alle conclusioni di questo video ed eccoci qua ragazzi dopo aver visto i benchmark che dire le prestazioni di questo mini computer davvero si fanno sentire soprattutto negli ambiti di produttività anche abbastanza pesanti sicuramente ecco gli e-core e i p-core sono veramente eccezionali e davvero per un computer che consuma anche a pieno carico sostanzialmente 38-40 watt davvero il livello di prestazioni che riusciamo a ottenere è praticamente quello di un Ryzen 7 come può essere il 3700X però su piattaforma ovviamente desktop e anche con consumi relativamente più alti mentre per quanto riguarda il gaming ovviamente diciamo sì ci potete giocare ai titoli più leggeri però ecco sicuramente l'Iris XE non è ecco questa grafica integrata che si potrebbe aspettare ecco da un pc da gaming ovviamente però ecco si riesce a fare anche quello e l'abbiamo visto prima nei vari titoli che abbiamo testato ma parlando ora meglio della questione costi vorrei presentarvi il mio amico Lorenzo che così vi parlerà meglio lui ecco di questa questione a tal proposito questione costi 565 dollari sul sito ufficiale direste ok una cosa di estrema nicchia peccato solo che lo stato italiano abbia deciso di addebitare e mettermi nel culo altri 171 euro e 73 centesimi di importazioni doganali che ha ritenuto essere come si può dire la differenza idonea a superire l'iva che magari non è una tradizione cinese come abbiamo noi qua quindi effettivamente ha portato il costo di questo mini computer latte panda sigma a superare 700 euro 700 dollari quindi vi consiglio per 750 euro questo mini computer latte panda sigma diciamo dipende perché se siete degli sviluppatori programmatori software lavorate appunto in ambienti con distro linux ma anche anche microsoft oppure magari con droni arduino cose del genere e avete bisogno di questa versatilità comunque anche questa portatività veramente anche molto leggero come computer e appunto potete attaccare quello che volete come abbiamo visto prima potrebbe fare il caso vostro anche a questa cifra ma se siete comunque degli appassionati magari sì di informatica ma comunque vi dilettate anche a giocare non avete chissà che esigenza ovviamente vi consiglio di più puntare magari o a un mini computer più classico come posso pensare ai minisforum che magari hanno anche una grafica dedicata o delle integrate un po' più insomma potenti posso pensare a quelle dei Ryzen tipo la Radeon 680M o magari vi prendete direttamente un pc portatile come quello che abbiamo visto nel video di qualche settimana fa del gigabyte G5KD che aveva una 3060 integrata e più o meno per lo stesso prezzo vi portavate a casa un portatile intero da gaming comunque devo essere sincero mi è piaciuto davvero molto fare i test su questo mini computer anche perché davvero faceva ridere quasi averlo sulla scrivania collegato con tutti i cavi davvero quasi che si mimetizzava con il tavolo con magari lo stand del monitor perché davvero è minuscolo e arrivati a questo punto del video io non posso far altro che consigliarvi due video più o meno inerenti che secondo me vi possono interessare ovviamente il primo è quello che vi ho già citato riguardante il portatile da gaming gigabyte G5KD davvero secondo me ha un prezzo assurdo per le prestazioni che offre mentre il secondo video che vi consiglio è quello riguardante il mio pc portatile che ho pagato solo 120 euro e che all'interno ha un i7 e una gtx 950 ovviamente siete interessati a qualcosa di più budget detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima e fermateli se volete ancora vedere questo mini computer in azione con magari degli esperimenti pazzi beh questo video deve raggiungere almeno 100 like magari qualche brutta idea ne uscirà fuori per la prossima Grazie a tutti